Sono tre o forse quattro i malviventi con il volto coperto e vestiti in abiti scuri che si sono introdotti intorno alle 3 del mattino della notte scorsa all'interno del supermercato Coop di Lucrezia di Cartoceto. Per introdursi e dentro il locale hanno sollevato le due ante della porta scorrevole all'ingresso del negozio, facendola così uscire dai binari che la trattengono per poi spingerla all'interno ed entrare facilmente nel supermercato. L'incursione è stata rapida, poco più di qualche minuto e precisa. Il loro obiettivo erano i cassetti porta denaro delle casse custoditi in un armadio pesante con all'interno il fondo cassa. I ladri hanno aperto il pesante armadio con tutta calma una volta allontanatisi dal supermercato in un luogo appartato e ritrovato poi al mattino dopo dai carabinieri in un campo in località Villanova di Montemaggiore, sempre nel comune di Colli al Metauro. Dai primi rilievi non è stato portato via altro dal supermercato ed il bottino ammonterebbe a poco più di 3.000 euro. Ora i carabinieri della stazione di Colli al Metauro, coordinati dal comandante Antonello Pannaccio, stanno visionando le immagini delle telecamere per trovare riscontri utili alle indagini, come l'automezzo usato dai malviventi per allontanarsi dal luogo del furto.